Vado? Venti di clienti, sono io i 12, osce a 9 con i definitivamenti. Ringraziamo tutti i nostri clienti che ci hanno sempre sostenuto e che con il loro servizio hanno giunto valore alla nostra professionalità lavorativa che oggi ci viene sosta. Ringraziamo comunque l'azienda per questi meravigliosi 13 anni, nei quali abbiamo indossato con un sfoglio la nostra vita, che è ovvio a tutti i nostri clienti. Noi siamo e resteremo la grande famiglia di Giannola e ci auguriamo di cominciare al più presto una nuova avventura. Siamo pronti a nuove sfide, centi della vostra futura presenza. Auguriamo a tutti i clienti buon anno. Fiori, spostati, Fiori. Fiori, spostati, sono andato in qua. Ecco qua. Vieni Fiorella. Vieni Fiorella. Vieni Fiorella. Grazie.